Ciao a tutti! Oggi è un video molto divertente perché si tratta del regresso alla scuola e ho pensato di fare un anellar molto semplice ma allo stesso tempo carino ed elegante. Questa è la mia proposta, quindi se siete interessati a come ho fatto questa accent manicure seguite il tutorial. Ciao! Per agilizzare i tempi ho già applicato sul mio annulare ho applicato uno smalto nero e sulle altre dita ho applicato uno smalto color nude Adesso con dell'acrilico bianco andrò a fare il mio disegno Con un pennello della punta corta e sottile disegnerò il mio folio e lo riempio tutto e se come è un acrilico avrò bisogno di farlo acciugare farò altre passate con questo pennello con questo pennello così sottile andrò a fare la decorazione dopo che sia asciutto l'acrilico in pratica prenderò del acrilico colore rosa e fare una riga e fare una riga con del smalto nero con del smalto nero farò alcuni puntini e adesso faccio la decorazione al mio piacere quindi fare una cosa semplice e fare una volta e fare una volta che sono scantata andrò in pratica e fare una volta e fare una volta che è questa e non basta e poi per le altre dita ho pensato e metter un piccolo strass per richiamare la nail art adesso aspetterò che asciughe questo top coat e la nail art è pronta fatemi sapere cosa ne pensate di questa mia idea e magari in un commento qua sotto io spero che vi sia piaciuta e vi ramando al prossimo video e alla prossima, ciao!